Ecco qui abbiamo in questo momento varie persone che sono venute, noi li ringraziamo, vedete anche qui all'esterno ci sono persone che parlano, che chiacchierano tra di loro e abbiamo fatto le telefonate, telefonate viva voce adesso, poco fa, e proseguiamo a fare le telefonate viva voce di nuovo tra un po', proseguiamo a farle, ci sono varie persone che sono qui presenti, alcuni sono già andati via e altri sono rimasti, c'è un via vai continuo di gente che va e che viene. Ci sarà adesso una piccola lettura della parola di Dio, vi leggerò dal libro dei proverbi, i proverbi di Salomone, dai proverbi capitolo 15 parla della mansuetudine e quindi vediamo quello che il Signore ha preparato per noi dalla sua parola. Leggiamo e preghiamo prima.